Ciao a tutti ragazzi, oggi c'è un nuovo video, lo farò molto corto perché dopo dovrò fare un altro video e quindi vi lo faccio vedere velocissimo dopo farò un video su queste gallette, su questi quattro tipi di gallette c'è la mini choco rice, che sono tante e piccole e sono secondo me buonissime, sono a latte, penso si, che ho trovato a latte ragazzi sono tantissime, tantissime bene, credo che fare il video su questo questi sono sempre choco rice, ma fondente ah tra l'altro, no, questo non è mini choco rice, è mini choco mais perché le gallette, come vedete, a differenza di queste queste sono leggermente più bianche di queste perché queste sono fatte con mais e queste con riso e queste secondo me saranno ancora più buone poi queste le ho già provate e sono le gallette di riso agli urtillo ragazzi, quanto sono belle così colorilla, così, guardate, bellissime e poi le ultime sono le gallette di riso semplici alle coperte con cioccolato, semplici sono le gallette di riso semplici alle coperte sono tutte queste beh, questa 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 e questa e raga vediamo se fa la foto ok però una cioè un unboxing dopo su questa quindi ciao ragazzi vediamo un unboxing di dopo ciao ciao